Le forze armate turche con circa due divisioni di terra hanno invaso una parte della Siria. Il comando supremo delle loro forze armate è del presidente della Repubblica Erdogan. Per costituzione sono sue le decisioni in capo alle operazioni belliche. La Turchia attualmente fa parte della NATO, o viene chiamata anche OTAN, l'alleanza atlantica. È un'alleanza militare di Europa più Stati Uniti. In questo momento le forze armate turche dispongono del maggior numero di mezzi militari, sia aerei che blindati e corazzati. Non hanno la supremazia in mare. Però attenzione, c'è una differenza tra il numero di mezzi e la forza militare. Attenzione che le forze armate di Saddam Hussein erano la quarta forza armata per numero mondiale. Ed è stata annientata in poche ore. Quindi attenzione a non valutare un esercito per il numero di mezzi. Può avere diecimila volte i vostri mezzi ma che sono obsoleti e voi con un solo aereo distruggete l'intero esercito. Quindi attenzione a non valutare in questa maniera le forze armate di un paese. Il Ministero degli Esteri italiano, che viene chiamato anche Farnesina, e il suo titolare Luigi Di Maio ha convocato immediatamente l'ambasciatore turco, così come molti paesi dell'Unione Europea. Perché Di Maio dice che ogni tipo di ricatto di Erdogan è inaccettabile sia per l'Italia che per l'Unione Europea. Già lunedì prossimo proprio l'Unione Europea dovrà necessariamente affrontare la questione in modo unitario e svincolarsi da un ricatto quello turco, che non è solo sui migranti ma anche finanziario. Che cosa ha detto Erdogan? Ha detto se continuate così a dire che siamo degli invasori, vi mandiamo lì un 3 milioni di profughi. Apriamo le porte e li facciamo entrare in Europa. Un ricatto bello e buono perché Erdogan ha già ricevuto 6 miliardi di euro, perché in Turchia sono entrati milioni di profughi che scappavano dalla guerra. E lui dice che si è sempre lamentato di non aver mai ricevuto dall'Unione Europea i soldi promessi, ma solo una parte di quelli promessi per gestire i campi profughi. E questi 6 miliardi che però sono arrivati, che per Erdogan non sono sufficienti, sono stati versati in tre tranche. E ora sta di nuovo battendo cassa, tanto che la settimana scorsa sia il ministro dell'interno tedesco Örst Schöfer, sia il commissario uscente all'immigrazione Dimitri Avrampoulos, sono stati ad Ankara proprio per ridiscutere il patto finanziario siglato dalle autorità turche con Bruxelles, tre anni fa. Ma era proprio Erdogan che diceva all'Italia siamo con voi perché guardate che l'Europa non gliene frega nulla, né di profughi né di clandestini. Anche noi abbiamo avuto la stessa brutta esperienza, promesse promesse e poi non hanno fatto nulla. Soldi ne hanno mandati solo una parte di quelli promessi. Come dicevamo, la Turchia fa parte dell'Alleanza Atlantica. L'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica dice che ogni attacco rivolto verso uno dei membri è come se fosse un attacco rivolto a tutta l'Alleanza. Ma qui è un membro dell'Alleanza Atlantica che sta attaccando un paese fuori dall'Alleanza Atlantica, e il paese attaccato reagirà. In questo caso non può la Turchia invocare l'articolo 5 per essere attaccato dalla Siria perché sarebbe ridicolo, perché sono loro i primi ad attaccare e hanno avvertito i paesi dell'Alleanza Atlantica con una nota dove si prefigurava l'invasione di terra di una parte della Siria. L'Europa risponde che comprendiamo le loro legittime esigenze di sicurezza ma ogni mossa va fatta con proporzione. Quindi i ministri degli esteri dell'Unione Europea si ritroveranno per condannare le mosse di Erdogan e potrebbero essere costretti a parlare di nuovi finanziamenti tanto più che il ricatto di Erdogan, per quanto definito inaccettabile da tutti gli attori europei ovvero quello di riversare i profughi proprio verso l'Unione Europea sta già spostando l'attenzione sulle rotte migratorie dal centro del Mediterraneo al contesto siriano. La preoccupazione dell'Unione Europea non è assolutamente una preoccupazione militare per la sicurezza strategica dell'Europa è un problema principalmente di migranti quindi l'Europa sa perfettamente che non ha dato tutti i soldi promessi ad Ankara, ad Erdogan non glieli ha dati tutti, gliene ha dati un 20-30% quindi giustamente la Turchia sta dicendo se continuate a dire che noi siamo degli invasori adesso vi mandiamo i profughi, apriamo le porte e vengono lì da voi perché voi non avete mantenuto i patti come non state mantenendo i patti con lo Stato italiano. Quindi troppo delicato il contesto geografico e umanitario perché l'Europa minacci la Turchia di non dargli i soldi perché già non glieli sta dando attenzione diceva mi ha dato 6 miliardi sì ma erano molti di più erano molti di più gliene sta dando il 20-30% quindi cosa dice? Chiudiamo i rubinetti che erano già chiusi che era una presa in giro? Attualmente in Turchia ci sono 3 milioni e mezzo di profughi attenzione, questi sono tutti profughi non stiamo parlando di clandestini di gente che ha cercato ed è entrata in Turchia in maniera illegale come quelli che arrivano da noi che al 97% sono assolutamente clandestini illegali in Turchia ci sono 3 milioni e mezzo di profughi cioè persone che scappano dalla guerra o dalla persecuzione politica e dicono che sono tenuti in condizioni che non hanno alcuna aderenza con i finanziamenti ricevuti da Ankara i primi 3 miliardi di euro per la Turchia sono stati interamente versati alla fine del 2018 nello stesso anno è arrivato il via libero di altre due transi di 2 miliardi e di un miliardo di euro quando Erdogan minaccia l'Unione Europea di invaderla di profughi sa di avere il coltello dalla parte del manico e sa anche che la risposta dell'Unione Europea non potrà che essere diplomatica perché in questo momento è come se Bruxelles sia finita in un cul de sac in cui al massimo può chiedere moderazione nell'offensiva l'Europa in ambiti di invasioni militari è sempre stata abbastanza debole perché non ha comunque forza contrattuale e poi dobbiamo dire che l'Unione Europea non ha delle forze armate c'è qualcosa di embrionale c'è la marina delle marine dei vari stati si uniscono per fare delle esercitazioni c'è qualcosa di congiunto ma non esistono le forze armate europee da non confondere con la Nato la Nato è un'alleanza militare di Europa e Stati Uniti dunque attenzione che dentro la Nato c'è anche gli Stati Uniti ma un'alleanza cioè una forze armate europee attualmente non esistono ci sono delle collaborazioni congiunte delle esercitazioni congiunte ma attenzione non c'è un comando unitario di forze di terra di mare e dell'aria questo assolutamente no quindi l'Unione Europea può comunque dare dei moniti attenzione non dovete farlo non dovreste farlo e così non si fa ma più di quello non può fare può fare delle ritorsioni finanziarie può fare degli embarghi naturalmente all'Europa si sovrappone la Nato che non è perfettamente sovrapponibile perché c'è anche gli Stati Uniti però il vero braccio armato dell'Europa con Stati Uniti è proprio la Nato la Nato è una pura alleanza militare di politico non ha nulla è una sola alleanza di difesa comunitaria dove tutti rispondono se uno Stato viene attaccato viene attaccata la Francia la Spagna vuol dire che è un attacco contro tutti i membri della Nato e tutti devono rispondere come se fosse un attacco proprio in questo caso però la Nato non può minacciare militarmente la Turchia vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video arrivederci